Al Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli si è svolta l'Assemblea dei soci di fine anno della Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani. Tre punti all'ordine del giorno per la parte straordinaria dell'Assemblea, tutti approvati dai soci, ed altri tre argomenti per la parte ordinaria, anch'essi approvati dai circa 1091 soci presenti. Presidente Lucio Alfieri, Assemblea di fine anno, straordinaria e ordinaria, tutti gli argomenti all'ordine del giorno approvati, è soddisfatto? Sì, più di mille persone che manifestano la fiducia rispetto a un momento importantissimo per la banca che è quello dell'adesione alla capogruppo, quindi sposa questo principio di cambiamento, anche se obbligati, però speriamo di aver potuto informare bene i nostri soci, di aver dato le giuste informazioni rispetto a un cambiamento che sicuramente spaventa. Ma i cambiamenti non possono essere solo visti con la paura di chi sta perdendo qualcosa, ma deve essere anche visto con un'ottica di positività e con la possibilità di poter percorrere le opportunità nuove. Noi speriamo di essere in grado, ripeto, di non vanificare l'eredità che abbiamo ricevuto, perché le banche di credito cooperativo sono tanti anni che sviluppano un importante ruolo sul territorio, più di 130 anni di storia e anche nel nostro Cilento, in provincia di Salerno, un ruolo importante a sossegno dell'economia. Oggi è un momento importante, una riforma voluta per dei principi giusti a livello comunitario, dobbiamo essere bravi a non snaturare il nostro modo di fare banca. Questo dipenderà anche dagli uomini. Le regole non sono assolutamente esclusive e non sono delle norme che non permettono la possibilità di fare ancora la banca di credito cooperativo. Se cambierà in peggio, probabilmente non sarà solo per le norme, ma perché non saremmo stati in grado di interpretare bene questa riforma. Quindi noi ci dobbiamo impegnare per esercitare la nostra funzione ancora meglio, essendo vigili, controllando la capogruppo, perché è una sinergia quella che si sviluppa con la capogruppo, e cercando di non soccombere rispetto a cose che non riterremo giuste. Però questo si fa non soltanto andando ad alzare barricate, muri, urlando il nostro fastidio per qualcosa che non ci piace. Io penso che la partecipazione attiva e soprattutto l'impegno serio su alcuni argomenti possa arginare un legittimo rischio di una deriva che a noi non piace. Noi abbiamo questo tipo di approccio. Riteniamo che la capogruppo dia tante opportunità, darà stabilità al nostro sistema, darà anche la possibilità di tagliare quei rami secchi che prima non c'era consentito tagliare, perché tante banche sono sparite, perché non venivano gestite bene, non abbiamo la necessità di avere un commissario o un liquidatore. La riforma permetterà di emarginare quel malagestio in modo preventivo. Noi vogliamo vedere questo come elemento di positività, quindi gli interventi preventivi a salvare le banche delle proprie comunità. Speriamo che la riforma sia soprattutto questo, che sia soprattutto possibilità per i nostri imprenditori di avere servizi sempre più efficienti, che non si disperda quel rapporto umano che ha fatto sì che le casse rurali fossero leader nel nostro territorio come banche. Io sono fiducioso, spero sinceramente che tutto ciò avvenga nel modo migliore possibile. Noi ci impegneremo per far trovare la nostra banca pronta a questa importante sfida e ciò avviene perché la banca entrerà a pieno diritto in questa capogruppo, in una fascia ordinaria, quindi senza problematicità, potendo esercitare l'autonomia a pieno. E allo stesso tempo sperando anche di migliorare il nostro mondo, che ha sicuramente anche qualche luce d'ombra. La riforma potrà anche un po' risolvere qualche problema che non siamo riusciti in passato a risolvere.